Le versioni TTV sono dotate di un impianto idraulico a centro aperto da 84 litri al minuto o da un impianto load sensing da 100 litri al minuto, oltre ad una pompa indipendente per lo sterzo. Sono disponibili fino a 5 distributori posteriori elettronici e fino a 4 anteriori. I distributori possono essere comandati da joystick, da comandi dedicati o dai jolly buttons. Se si vuole, si possono scambiare i comandi dei singoli distributori in modo che siano sempre comodi. Il sollevatore idraulico posteriore è a comando elettronico e offre una capacità di sollevamento di 2600 kg nelle versioni V ed S e fino a 3800 kg nella versione F. Quello anteriore, Option, solleva fino a 1500 kg. L'idraulica del trattore può essere arricchita con tiranti e stabilizzatore a comando idraulico.